ariete hai così tanto da discutere e chiarire che prima è bene farlo dentro di te venere paziente saprà sostenerti toro avrai come la sensazione di essere sempre un passo indietro rispetto ai tuoi colleghi per fortuna sarà solo una tua sensazione gemelli nulla ti scuote oggi cosa quanto strana data la tua innata gioia di vivere dormito poco qualche timore ti assilla cancro saturno metterà la prova la tua resistenza psicofisica ti farà sfiorare il limite e convinto di aver già vinto dovrà rendersi al tuo essere instancabile leone oggi sceglierai come confidente e forse partner professionale un collega tanto modesto quanto preparato e fidato vergine oggi scoprirai di aver bisogno di essere tu a dettare i tempi delle tue scelte e non gli altri in serata un guizzo di entusiasmo ti porterà fra le braccia di venere bilancia situazione pesante in amore al lavoro quello che non riesci a capire neanche tu è se sia un problema di lavoro che crea nervosismo nella coppia o il contrario scorpione un forte mal di testa e un generale spossatezza fisica non ti mettono di buon umore al lavoro nulla di che sagittario mercurio ti darà oggi tutta una serie di idee di spunti e forse penserai al futuro con un occhio diverso capricorno una buona notizia di coppia una decisione importante una scelta definitiva oggi è la celebrazione dell'amore acquario saturno mina pesantemente i rapporti fra te e i tuoi superiori o con il team di lavoro probabilmente a fine giornata sarà chiara a tutti che la frattura è insanabile pesci martedì conferirà la determinazione la calma necessarie a prendere una decisione importante per te e per la tua famiglia